il video è il video il video è tutto in posto no vabbè che devo fare il video muove il video te puoi muovere c'è una macchinetta fotografica quella cosa che hanno inventato che ci si muove il video ci si muove ma tu che macchinette fotografiche non sei molto pratico al video ti puoi muovere qualche movimento questa sera al davinci mi è venuto a trovare maurissio battista è stato mio ospite io sono stato mostrato le pastarelle per tutta le pastarelle per tutti io sono stato ospite al suo spettacolo e lui è venuto da me ti muove maurì ti muove niente maurì di qualcosa di pure di mi posso muovere perché un video ti puoi muovere ti puoi muovere grazie a tutti vi lascio grazie a voi perché un video mi posso muovere agli amici del davinci vi salutiamo ci possiamo muovere scappiamo venite a vedere gli altri spettacoli ciao è un video è un video